Di sole, oggi il professor Mancini ci parlerà della figura di Pietro Martinetti, che è uno un po' dei padri della filosofia italiana. Gli lasciamo la parola, il professore è appena arrivato da Palermo, ieri, e ci ha portato un bel tempo. Lì com'era? Mi sono arrivato venerdì a mezzanotte dopo aver trovato lo scirocco in partenza con un raffico oltre 80 all'ora e il mio bifragio sulla Liguria. Ma io non ho paura degli aerei, quindi mi preparavo su Martinetti, salvo tutto nelle scorse più fuori, leggevo Martinetti, come Pierrone, che quando Pierrone non si sa se è esistito veramente, però nel naufragio lui rimane immobile, che poi invece è uno degli episodi di Pierrone, io in realtà non so che gli aerei non succede niente in tutti i casi, assolutamente. Allora, l'argomento di oggi è Piero Martinetti, non pensare. Piero Martinetti, cominciamo dalla bibliografia. Cosa leggere, se qualora uno avesse un interesse? Tra i libri ancora in commercio, ma non è molto vecchio, c'è di Amedeo Vigorelli, che insegna filosofia morale all'Università Statale di Milano e che ha scritto libri su Paci, su Banfi, cioè su Paci, sulla scuola milanese e anche questo libro, che è una presentazione di Martinetti, ma è anche un attento studio della biografia, quindi è a metà tra un'introduzione e una monografia scientifica, cioè nel senso che non è a metà, è tutte e due, se no non ve lo proporrei, è un bel libro, quindi. Piero Martinetti, la metafisica civile di un filosofo dimenticato, Bruno Mondadori. Questo è in catalogo, chi è interessato? E poi tra i tanti libri di Martinetti, visto che per dare il tema abbiamo portato La Libertà, questa è una ristampa degli anni Sessanta, bollati i moraglieri, ma è stato ristampato, credo, nel 2008. Quindi se cercate Piero Martinetti, La Libertà, c'è il libro oggi, è sempre lui, cambia l'introduzione, ma è sempre lo stesso libro. Un filosofo dimenticato? Sì e no. Sì, perché lui, che è un neoplatonico, aggiornato al neocantismo, studiato l'Ipsia e soprattutto Wundt, lui aveva studiato, è stato completamente dimenticato. Oggi l'Università Statale di Milano, facciamo pure un po' di polemica, ma non contro Amedeo Vigorelli, che è il primo a dirlo, facciamo insieme ad Amedeo Vigorelli un po' di polemica sull'antuale andazzo filosofico della Statale, e tutto il Dipartimento all'insegna della filosofia delle neuroscienze, che per me ricorda molto il diamante nell'Unione Sovietica, i proni agli apparati. Chi avrebbe mai detto che insegnava un filosofo spiritualista in Statale a Milano? Lui è stato il primo professore di filosofia teoretica, allora all'Accademia e poi dal 1923 Università Statale. In effetti fu un cambiamento di nome seguito a un potenziamento iniziato negli anni Dieci e poi si trasformò in Università, ma fino al 23 l'unica Università della Lombardia era Tavia. Già nel 1906 però Piero Martinetti conseguita la libera docenza con il suo libro più noto, Introduzione alla Metafisica, 1902, prima edizione, seconda edizione ampliata nel 1904 e successive di stampe, ebbene, conseguito questa cattedra di filosofia teoretica diventa il filosofo milanese. Lui era un po' bizzarro, questo è lui un bambino che riesce a vedere, era bizzarro questo canavese, nato a Po Canavese, da una famiglia di media borghesia canavese, ma il canavesano era austero e povero, quindi la media borghesia canavesana equivale alla piccolissima borghesia milanese, non poteva vivere di redditi familiari, quindi Martinetti diventa un personaggio a Milano fondamentale, fa lezione alle 8 del mattino, beh, semplicemente appartiene a quelli mattinieri, io no, come dal Prato, faceva lezione alle 11 e si lamentava che era troppo presto, però lavorava di notte, del resto Leibniz lavorava di notte e si svegliava tardissimo al mattino, quindi non è che sia un po' improduttivo chi si sveglia al mattino, ognuno è il suo bioritmo. Martinetti aveva il bioritmo da contadino e quindi si svegliava all'alba e alle 8, bello bello, lui faceva lezione, chi c'era? Gli studenti e c'era una parte di borghesia milanese che lo seguiva, per cui le lezioni di Martinetti erano, parafrasando loro Hegel, la messa mattutina di un'intelligenza laica milanese che andavano a sentire le sue lezioni e finita la lezione alle 9 iniziavano le loro attività, in statale, all'università statale, e quindi quale, dove, in che aula, non lo so, però all'università statale faceva queste lezioni. Martinetti dunque filosofo dimenticato, ma fu ben importante, il suo allievo Banfi prese il suo posto dopo che lui nel 1931 non giurò, non giurò fu uno dei cosiddetti dodici, in realtà sono un po' di più, Sandro Gerbi, in un articolo su Belfagor che condensa sui lunghi studi, oggi ai tempi dell'Arvon è impossibile, lui ha fatto una ricerca di due anni per vedere chi non l'aveva giurato ed è stato un articolo questa ricerca, l'Arvon l'avrebbe bocciato, invece noi grazie a Sandro Gerbi sappiamo che effettivamente furono circa 18, ma compresi una serie, non facciamo una lunga, però continuiamo a chiamare i dodici che non hanno giurato, come un po' i dodici apostoli della libertà, dodici su 1225 professori che allora erano i professori ordinari dell'università italiana. Martinetti dunque, Banfi prende il suo posto ma in nessuna contrapposizione al maestro, voci cattive che hanno messo in giro un dissidio tra i due al riguardo sono sbagliate e io ho la mia personale spiegazione, Martinetti che studiò molto il cristianesimo, soprattutto le cosiddette eresie, per un laico non sono eresie le chiese minori, era molto simpatetico ai quaccheri e il suo motivo della simpatia per i quaccheri, la società degli amici, anche in Italia, Pio Cesare Boring, morto da qualche anno, ex cesuita, era fondato a Bologna negli anni 90, la società degli amici, quindi chiamiamola società degli amici o chiamiamoli quaccheri, come quaccheri, quaccheri, perché all'inizio nelle loro unionistiche tremavano e allora ironicamente li chiamavano i tremanti, i quaccheri, quindi italianizzato quaccheri, i quaccheri furono ebbero e hanno avuto persecuzioni continue perché loro si sono sempre rifiutati a giurare, quindi non potevano fare servizio militare anche in America perché non giuravano e nei processi non potevano giurare, non volevano e poi nessuno li obbligava, loro non giuravano, seguendo il monito di Gesù, che la vostra parola sia sì sì o no, tutto il piovere dal diavolo, quindi voi non giurate, i quaccheri, cristiani coerenti non giuravano, lui dice questa è una cosa importantissima, a mio parere questo è il motivo per cui lui non ha giurato, un motivo religioso, non perché lui non fosse anche fascista, ma non era come un astratto, uno così belletario, era anche uno molto concreto e quindi infatti egli non ha nulla a obiettare che Banffi non giuri, perché? Perché Banffi non era un credente, non credeva senza essere altro, allora però neanche credeva in Dio, quindi Banffi giurava rispetto agli uomini e Martinetti se il giuramento fosse stato solo rispetto agli uomini avrebbe anche potuto giurare per continuare la sua magistero per i giovani quando lui si ritira a 59 anni e quindi avrebbe avuto ancora anni di attività e ritirandosi non avendo la pensione dovrà lavorare nelle terre, metterà gli alberi a frutta e vino e tra l'altro morirà in seguito una caduta da un albero da frutta nel 42 cade e dopo un anno muore ma in quell'anno riesce a dettare le lettere con fatica, riesce a leggere poco quindi se non avesse giurato, se avesse giurato non sarebbe caduto dall'albero, sarebbe andato avanti ancora per anni essendo una mente luminosa. Martinetti dunque ha questo allievo Banffi e altri allievi, uno dei più importanti è Eugenio Colorni che si laurea con lui su Leibniz, inizia come suo assistente ma lascia gli inizi promettenti di carriera universitaria, i suoi scritti filosofici comunque sono raccolti con, credo, introduzioni di Bobbio pubblicati dal Mulino, quindi un inizio che ha lasciato degli scritti Eugenio Colorni e milita nel centro interno socialista di Milano che si riuniva in via Telesio, via Beladio Telesio, con il diretto da Rodolfo Morandi e con Leglio Basso e dopo l'arresto di Morandi lui per un anno lo preside lui, finché poi arrestano anche lui. Aventutene scrive come sappiamo tutti, insieme a Rossi e Spinelli, il manifesto del federalismo, confamente, maldestramente per me fastidiosamente celebrato su una nave militare poco tempo fa da Merkel, Reimsichier, Altevoland, orrendo. Meno male che non c'è Martinetti perché con su un brutto carattere che aveva ci sarebbe veramente arrabbiato. Colorni non parliamo. E allora perché Colorni si laurea con Leibniz? Perché suscita questo interesse suscitato da Martinetti? E perché diventa federalista come immediata conseguenza dell'impostazione politica statuale di Leibniz e di Martinetti e che nasce da questo? L'io è qualcosa di indivisibile. Vedremo la critica di Martinetti a Leibniz a riguardo, ma ne mantiene l'operativa indivisibilità. E questo fa sì che la coscienza sia un tribunale immiorabile. L'io non risolve in sé la soggettività perché ci sono le formazioni superiori di soggettività, tra cui anche lo Stato, tra cui la coscienza morale come regno dei fini, il regno della libertà, ma le formazioni superiori, più elevate nel cammino verso l'uno che è la verità suprema, hanno la struttura di accordi intermonatici che mai violano l'io. Quindi uno Stato rispettoso di questo è uno Stato che è un assetto federalista. Quindi un mondo unificato planetario non è un unico grande Stato, ma una struttura confederativa, federativa. Ecco che quando Colorni è arrestato a Ventotelli, non sa cosa fare tutto il giorno, scriviamo un manifesto, scriviamo un manifesto del federalismo. L'idea filosofica dei tre la portò a Colorni. Quest'idea veniva da Martinetti. Vedete quante cose. Gadda. Chi c'era alle otto del mattino? L'ingegner Gadda, che pensò anche di laurearsi in filosofia, è che seguiva le sue lezioni, che assume anche lui questo carattere del Dio. E io ritengo, con l'ironia di Gadda che piega tutto, quando nel pasticciaccio brutto di Via Merulana definisce la casa al 19 diciannodesca, un po' scherza. Se avesse visto i negozi che non avendo un'idea mettono l'otto di via tal dei tali, il 18 metto come titolo da un negozio, per darsi un tono in realtà non ha nessuna fantasia. Ci sono i negozi, con il nome e il numero così, che vorrebbero dire qualcosa e non dicono assolutamente niente. Invece la casa di Via Merulana, che nella fantasia di Gadda, perché Gadda non la vide mai, poi aveva paura che i proprietari si lamentassero con lui, non andò mai a vederla prima quando scrisse. Il 19 di Via Merulana, che non aveva mai visto, era il diciannodesco. Dietro c'è l'Aivitz, ma dietro c'è l'Aivitz filtrato da Martinetti. Martinetti, a proposito di dimenticato, oltre a Barillet, altro importante filosofo milanese, morto tragicamente negli anni 50, ma non certo meno importante di Banfi e Carlo Sini, che si lavorò in realtà con Barillet, poi fece la sua carriera universitaria con Paci, appena arrivato, ma lui allievo di Barillet, che giustamente, questo sì Barillet è filosofo dimenticato, Barillet è allievo di Martinetti, per dire quanto è stata importante questa scuola, ma poi, oltre a questo, devo guardare qua, qui c'è il microfono, sei bello, adesso guardiamo, non è un video professionale. Lo so, lo conosco, grazie, ho visto anche gli altri, lei è molto modesto. Allora, oltre a questa scuola milanese fondamentale, lui, soprattutto nel momento dell'esilio a Castellamonte, ora sede della Casa Archivio Piero Martinetti, se cercate su internet Casa Archivio Piero Martinetti, trovate questa fondazione che ha sede a Castellamonte e che è una delle due fondazioni, perché l'altra sede all'Università di Torino, ma lavoro in piena sinergia, non c'è nessuna scissione, non importa, esistono queste due strutture che portano avanti gli studi su Martinetti. Ebbene, lui a Castellamonte diventa il punto di riferimento dei giovani e non giovani antifascisti da 31 al 42, o anche al 43 quando muore, ma l'ultimo anno chi lo andava a trovare lo andava a trovare con partecipazione, non per avere delle indicazioni, anche l'intelligenza antifascista piemontese. Tra questi Gioele Solari, filosofo del diritto eminentissimo, che ha avuto una grandissima scuola e molto vasta anche, è nato anche lui nel 1872, ho detto l'anno della morte e non ho detto quella di nascita, è nato nel 72, Gioele Solari anche lui nel 72 e poi Norberto Bopio, Gioele Solari, suo coetaneo è filosofo del diritto, ma molto influenzato da Martinetti, qui c'è il parco di Gioele Solari, e no, forse non è lo stesso Solari, questo è un dubbio, no, non è lo stesso Solari, scusatemi, mi chiedo subito, però è importante, Gioele Solari è filosofo del diritto importantissimo, Roberto Scalpelli credo che anche lui sia lievo di Gioele Solari. E poi un altro importante tra i giovani che va a Castellamonte e trae molto nutrimento è Norberto Bobbio. Norberto Bobbio trova uno sprone morale ad andare avanti, trova l'assetto della sua filosofia cantiana da Martinetti e trova anche l'assunto dell'indivisibilità dell'io, di questo individualismo monadistico che mi prende appunto da Martinetti. Martinetti poi era un personaggio lì a Castellamonte, non aveva la corrente elettrica perché avendo una casa piena di libri, comprati da lui, tutto il suo stipendio andava in libri praticamente, e aveva paura che un cortocircuito mandasse a fuoco tutto e quindi se ne stava senza, certo impianti elettrici degli anni 30 e 20 non erano gli stessi, però insomma, e quindi aveva questa paura stava senza corrente. Perché il fuoco della candela era originale, però comunque non è andata a fuoco la casa, quindi aveva avuto le sue, evidentemente pensava al fuoco delle candele di controllarlo con la sua vedutezza, mentre invece l'impianto elettrico non aveva il telefono perché lo riteneva strumento diabolico e Bobbio nella giornata martinettiana del 72 dice, io credevo che fosse una stramberia, ora sono convinto che avesse pienamente ragione. Nel 72 non c'erano ancora i cellulari e nient'altro, che Bobbio si sarebbe convinto ancora di più dopo, quindi non aveva il telefono, non aveva la corrente ed era però un punto di riferimento fondamentale di giovani e meno giovani piemontesi. Martinetti è stato questo. E poi veramente dimenticato, lo è stato per un po', ma mai completamente, perché morendo nel 43 immediatamente vengono pubblicate le sue opere, tra cui una delle più belle, Kant, che lui aveva già concepito un corso che aveva già sistemato per la stampa, che i fratelli Bocca dovevano pubblicare nel 43, quindi esce, e poi una serie di altri libri postumi, e poi ancora nel 64 la prima giornata martinettiana a Torino, organizzata dalla rivista Filosofia di Matthieu, nel 72 la seconda giornata martinettiana, e poi i momenti più recenti, nell'ultimo decennio Morcelliana ha pubblicato alcune cose, Gesù Cristo e il cristianesimo, quest'opera di 34, se aveva tempo ne parleremo, le ragioni e fede, un'antologia che gli fece uscire in un primo momento prima della guerra, e poi subito dopo la sua morte viene pubblicata, e poi verrà ripubblicata da guida ancora nel 72, nel 72 per i cento anni escono altre cose, soprattutto ad opera di Luigi Parison, che si riteneva il suo prosecutore, Luigi Parison a me personalmente più volte l'ha detto, io l'ho conosciuto per Martinetti Parison, perché studiando Martinetti dovevo andare a vedere le carte d'archivio e mi feci fare le tue lettere da Bobbio e da Parison, che è Bobbio che l'ho conosciuto per Pansieri, per il mio Pansieri, Parison che conosco attraverso Virgilio Mechiorre, e che quindi frequentali. Quindi Parison, nel 72 pubblica altri libri, ora è una vicenda decente, nell'ultimo decennio sono stati ripubblicati Gesù Cristo e Cristianesimo ed è mandato in un'edizione critica, quindi Ragione e Fede, Prima la Libertà, questi tre, e poi sono usciti alcune pubblicazioni, c'è stato l'anno scorso il convegno a Chibasso e Castellamonte a cui ho partecipato internazionale, i tempi lunghi degli atti, chissà quando vedremo, ho organizzato l'Università di Trento, ora a fine ottobre, io non posso andarci perché sarò a Palermo, impegnato in un altro convegno a Palermo che non c'entra, organizzato dal mio dipartimento, ora ci sarà un nuovo convegno su Martinetti, organizzato all'Università dell'Insubria, sullo Spinozza di Martinetti e la scuola di Milano, vi devo dire che questa definizione di scuola di Milano a me non piace, anzitutto è stata scippata alla neoscolastica, alla neoclassica, perché scuola, bisogna sempre dire ma chi è il primo che ha usato questo nome, il primo che ha usato anche se non ha il copyright, va rispettato, scuola di Milano si chiamava, e si chiama tuttora, la neoclassica milanese dell'Università Cattolica di Montadini per differenziarla dalla scuola di Padova, no? Poi, neotomisti c'erano in tutta Italia, ma c'erano però la scuola di Padova, la scuola di Milano, con una querelle tra di loro abbastanza anche pesante e contrapposte, e quindi questa era. Al certo punto il bravissimo Fulvio Papi, che è molto meritorio per tanti studi che ha fatto sulla linea allievo di Banfi, sulla scuola di Banfi, ha chiamato la scuola di Banfi la scuola di Milano, e quindi ora è la scuola di Milano, quindi questo convegno è su Martinetti e la scuola di Milano attraverso il suo Spinozza sarà, io non posso andarci, sarà andato. Un convegno in due anni, dunque, e anche questo è un convegno internazionale, che avrà la sua risonanza, su Martinetti c'è un ritorno, e quindi non è così dimenticato, grazie anche naturalmente a Vigorelli, grazie all'editore morcelliana che sta facendo queste iniziative, coraggiose, perché parliamo di un filosofo di cui poco si sa. Perché io parlo di Martinetti? Io lo studiai alla fine degli anni settanta, perché scelsi di scrivere, appena arrivato in Cattolica, Vigilio Mecchiore mi dice, stiamo facendo un libro su Gesù nel Novecento, scegliti un autore, e io parlo di Gesù e il cristianesimo, Gesù Cristo e il cristianesimo, e Martinetti, benissimo, lui sapeva che un libro messo all'indice, che padre Gemetti odiava, però essendo una persona libera, avesse disse, benissimo, scrivi, e non mi disse, scrivi una cosa, mi lasciò completamente libero di scrivere quel che volevo, cosa che feci. E io studiando Martinetti capì, che lo capivo facilissimamente, com'è possibile che uno capisca facilmente un filosofo, senza fatica. Se uno capisce facilmente un filosofo, vuol dire che ragiona come lui, che pensa come lui. E dico, ma allora, dato che Martinetti pensava come Plotino, capì che dovevo leggere anche lei, era di Plotino, lo volesse dopo un po', e quindi io attraverso Martinetti, reinvestai la mia genealogia inconsapevole e filosofica. Quindi, io sono allievo di Paci e di Mecchiore, Paci è allievo di Banffi, Banffi è allievo di Martinetti, Martinetti è un po' mio nonno filosofico, quindi andai a vedere la sua casa, capì che avevo qualcosa in comune, non avevo il suo coraggio, ma avevo qualcosa in comune. Come si definisce Martinetti? Con l'ironia che anche aveva, quando non era irrascibile, così si definisce nel previario spirituale. Il previario spirituale, in vero, un'altra opera ripubblicata, il previario spirituale, non l'ho citato perché a me non piace molto, perché lui l'ha scritto per questo pubblico della borghesia che veniva alle 8 del mattino, però con un intento esoterico, divulgativo, che lo rende un po' non molto riuscito, per me è uno degli scritti, comunque insomma, a me non c'è nulla che non ci sia negli altri scritti. Diciamo, è Martinetti per tutti, previario spirituale, così si definisce. anima di un neoplatonico misteriosamente trasmigrata nel nostro secolo. C'è ironia verso il suo secolo, in cui trionfano l'idealismo di gentile, di croce, il dogmatismo della neoscolastica, il dogmatismo secondo il suo punto di vista naturalmente, il positivismo, non c'è spazio per Martinetti. Non c'è spazio per uno che definiva la sua filosofia idealismo trascendente. L'idealismo era dominante, ma era dominante nella versione dell'idealismo immanente di gentile, o nell'idealismo storicista di croce, e questo idealismo trascendente era lui che si incuneava. I suoi punti di riferimento erano i neocantiani, a fine dell'Ottocento, che lo studia a Lipsia, lui dopo la laurea a Torino va a Lipsia tra il 94, tra il 93 e il 95, forse il 94, non mi ricordo esattamente, in quel bienio comunque, e lì studia Wundt, studia Lozze, che non c'era più la generazione precedente, e studia tanti altri neocantiani che oggi conoscono solo i pochissimi altetti e lavori. E la sua idea è di riprendere Plotino e aggiornarlo attraverso Kant e coesti neocantiani. Cosa riprende Plotino? Riprende il fatto che il pensare filosofico, il pensare quindi noetico, quello dell'intelligibile, del Nus, muove da un'intuizione. E questa intuizione è ultima, non è fondabile, non è deducibile. Si pensa a partire da un'intuizione. E l'intuizione che ci abita è il pensiero che ci abita, è il nostro pensiero. E la filosofia la modula nelle sue strutture intellegibili, come al pari l'artista la modula nelle linee dei colori, nel vortice dei suoni. Il filosofo fa questo. Ma il filosofo, al pari di un artista, al pari di qualsiasi essere umano, è abitato da un pensiero. Chi di noi è padre o madre ha visto i propri bambini essere abitati improvvisamente da un pensiero. E poi, ogni tanto, nel corso della vita, questo pensiero viene fuori. Io mi ricordo che per mio figlio eravamo isola lunga delle saline di Trapani, quindici chilometri il giro completo sotto il sole, vietato, non si poteva andare, quindi noi abusivamente, non c'è nessuno perché sono saliti. Quindi con l'acqua dietro, camminando sotto 30 gradi a luglio, la vostra nonoria, sono altre cose folle di andare o di portare un bambino, a un certo punto Leo, che aveva 8 anni, dice per me il mondo è un sogno, è qua di Dio, e quando Dio si sveglierà, il mondo finirà. Questi sono anche racconti di fantascienza, c'è un racconto di, credo di Dick che sia questo, che dice una cosa simile, no? Io lo guardai, non disse niente, me lo ricordo. E la sua pensiero, non lo so, è presto da vedere, ma si vedrà. Qualche sia quello il suo pensiero, che sia un altro, noi siamo abitati da intuizioni che ci prendono, ci afferrano e ci fanno modificare tutto quello che vediamo e sentiamo dopo. Questo è deducibile. Questo è Plutino. Per Plutino, l'uno è all'inizio e alla fine dei nostri pensieri, come mistero, trascendente. La trascendenza di Plutino è del pari Martinetti non è una trascendenza ontologica, che afferma l'essere di Dio fuori dal creato. Lui rifiuta la creazione da questo punto di vista. Dal punto di vista ontologico, Martinetti è un monista come lo era Plutino, e quindi un antignostico, uno contro la gnosi e una serie di trattati dell'Eneadi contro la gnosi. Plutino era un monista super ontologico, solo l'uno a verità e vita. Solo l'uno è, però improprio dirlo perché l'uno al di là anche della distinzione tra essere e non essere. Solo l'uno è impropriamente. E l'uno è neanche uno, perché già l'uno è un nome simbolico dell'uno, diciamo uno negativo, ma chiaramente anche l'uno negativo è un nome simbolico, no? E quindi l'uno è sempre oltre, è pequeña, oltre ogni nostra espressione. E ogni nostra espressione, fin l'uno è ancora più elevata concettualmente, quella dell'uno, è sempre simbolica, quindi prospettica, quindi inadeguata, quindi parziale. Dunque c'è un'intuizione per Plutino come per Martinetti, misteriosa. L'uno è a monte come mistero e a valle di un cammino di avvicinamento a quest'uno che sempre sfugge, però sfuggendo ci lascia il nostro percorso. Ma rimane mistero. Ecco la trascendenza. La trascendenza dell'idealismo martinettiano è la trascendenza di un mistero. Martinetti è lontano dagli Aspers perché lui era irritato da questa nuova moda dell'esistenzialismo degli anni venti. Non gli piaceva, però era anche un irascibile. In realtà gli Aspers non dice cose molto diverse da quelle che dice Martinetti. Ma al di là di questo fatto, comunque in ragione e fede, in questi ultimi scritti, comincia ad avere un'attenzione anche verso questa dimensione dell'esistenzialismo, soprattutto verso Barth, ha un interesse verso l'esistenzialismo teologico di Barth. Ma comunque, al di là di questo, abbiamo l'intuizione, l'uno. L'uno è a monte e l'uno è a valle, verso P.C.D.A. E il nostro cammino che cos'è? Il nostro cammino è il cammino del portare progressivamente a unità i lati separati della nostra personalità e le nostre relazioni umane. Noi nasciamo isolati tutti dagli altri, ci troviamo in prima elementare in una classe o anche adesso l'asilo o addirittura l'asilo nido. Inizia la costruzione dei rapporti termoanalici. L'adolescenza è molto simpatica e comica perché uno vede negli adolescenti e nelle adolescenti lati completamente separati. Il bambino che sopravvive nuovo, più il barbaro di un nino, eccetera. Uno vede tutti questi lati separati ed è buffo, è bello. E poi piano piano la costruzione della personalità. All'università si vedono ancora i bambinoni, perché i grandi grossi ma che sono ancora bambini per certi aspetti. Ma poi diventano, rivedendoli dopo anni, diventano tutti adulti con il loro lavoro. Io mi ricordo in aereo mi trovo uno che era veramente un selvaggio e invece era un padre di famiglia col bambino e la moglie lì a fianco passati gli anni. Ecco la costruzione degli accordi intermonatici. Ecco la personalità come passaggio graduale da una disarmonia a un'armonia. Perché personalità sempre individualizzata? A partire da questo nucleo che è l'io. E qui oltre che Plotino entra in gioco, devo guardare però, ho ancora un quarto d'ora, giusto o no? No, mezz'ora. No, no, buono, buono. O ancora entra in gioco Kant studiato attraverso i Nei Kantiani. Uno, soprattutto Lotz e Wundt, a mio parere, ma ce ne sono anche altri. Che cosa prende da Kant, ma anche Leibniz? Che cosa prende da Leibniz e da Kant? Beh, lo statuto manatologico dell'io. Un universale singolare, per dirla come la dirà poi Sartre, Jean Paul Sartre, un universale singolare. Noi siamo universali singolari, quindi nessuno di noi è impiazzabile dagli altri. Siamo unici, insostituibili. Qual è lo statuto ontologico, però, di questo io? Per Leibniz che si dispone con tutti i titoli di legittimità, io per parlare chiaro sono molto più vicino a Leibniz che a Martinetti, dal nostro punto di vista. Per Leibniz la nostra individualità ha anche uno statuto ontologico che ci è donato da Dio, che ci è donato, che non è necessario. Noi potremmo anche essere solo una rete relazionale. Ma Dio ci dona l'indivisibilità. Perché ce la dona? Perché il cammino di risalita verso di Lui è troppo breve per questa vita. Dobbiamo continuarlo e per continuarlo dobbiamo avere memoria di questa nostra vita e dobbiamo continuare i nostri rapporti interpersonali, sia nel bene sia nel male, nel senso che se abbiamo fatto del male dobbiamo risponderne anche. È un cammino che continua, nel bene o nel male, a seconda di come abbiamo vissuto, che non è paradiso e inferno, ma non è neanche completamente contrario, salvo che la perennità dell'inferno è assolutamente legata, perché si andrebbe a un dualismo ontologico in quel modo. E allora Kant ha più o meno la stessa idea, ma depone il concetto di sostanza, che lo considera dogmatico. Oltre i neocantiani, Lotse riprende Leibniz in realtà, Lotse è importantissimo. Per dirvi, Edmund Husser, ritenuto da molti il più importante filosofo del Novecento, scriveva che Lotse è il mio spirito unita. E Heidegger, in essere tempo, dice appunto, per criticare Husser, che tutta l'indetica osseliana discende da Lotse, ma lui lo dice per criticare Husser, che Husser è uno che ha ripreso fondamentalmente Lotse. Lotse è importantissimo, domina non solo l'Università di Berlino, a metà dell'Ottocento, ma ha un'influenza fondamentale su tutto il neocantismo successivo. Il neocantismo della generazione dopo Lotse, cioè non metà ottocento, fino a ottocento, siamo proprio, intanto paghiamo a braccia, no? Così, però per intenderci, a cui appartiene anche Martinetti, rifiuta una concezione sostanzialistica dell'Io, quindi si richiama più a Kant che a Leibniz, ma è una questione da filosofo, perché la sostanza è lo stesso, Dio è indivisibile, e che l'Io sia indivisibile lo vediamo in atto, vediamo, è ovvio che nessuno di noi è sostituibile dagli altri, chi muore su questa scena del mondo non è rimpiazzabile, basta, basta questo per affermare l'indivisità del Dio. Ma qual è lo suo statuto ontologico? Martinetti, che come vi ho detto ontologicamente un monista, ritiene che solo l'Uno è, e fuori dall'Uno non c'è nulla, Plotino riteneva la stessa cosa, Martinetti che un monista rifiuta una concezione di Dio come una sostanza indipendente creata, e pensa che Dio sia una unità attuale e non anche una unità sostanziale. Voi diceva appunto, lo dice anche lui. E' così grande la differenza, in realtà è piccola, perché semplicemente egli rifiuta il concetto di sostanza, e cioè per pensare l'indivisibilità dell'Io non abbiamo bisogno di ricorrere secondo lui al concetto di sostanza. Qui questa cosa è proprio un interesse solo per i filosofi di professione, gli altri possono dire a me questa cosa non è che interessi molto, e in effetti ha ragione, perché la conseguenza antropologica è la stessa. C'è un Io che è atto di sintesi progressiva. la conformazione della personalità è una armonizzazione, e così pure dei pari le formazioni superiori della societività. Qual è la società più civile? Dove è più alta la civiltà? Dove è più vicina l'Uno. E dove è più vicina l'Uno? Dove i possibili si armonizzano tra di loro, si connettono. dove le antitesi cedono il posto alla compulsibilità. Dove per esempio la guerra cedono il posto alla pace, non la pace romana. La pace dinamica, la pace suscitata dagli antitesi che invece diventano compulsibili. Questo è per Martinetti il percorso della verità. Andare all'Uno vuol dire è elevarsi dalla separatezza alla sintesi come armonia di possibilità, armonia dinamica che sempre e mai e non del conflitto lo annulla, ma non nasce alla lacerazione come ultimo. uno degli scritti che Martinetti non pubblicò, io l'ho lessi inedito, ma nella trascrizione di Emilio Gazzi di cui ora vi dirò subito qualcosa immediatamente, intatti l'ho scritto L'Amore. Poi un editore milanese decise di pubblicarlo. Se mi avesse chiesto il favore ho detto non pubblicarlo perché già Martinetti è dimenticato, poi se lo leggono le donne questo libro è pieno di misoginia, ma misoginia ingenua, pregiudizi, dice l'erotismo vuol dire avere i guanti sopra il gomito, i guanti sotto il gomito sono volgari, cioè dice cose, e mette, dice anche cose strane, le prostitute hanno di solito la voce rock, e come faceva a saperlo? Io leggo anche McGray Detective, quindi il detective dice tu come fai a sapere questa cosa? Non c'erano le televisioni, le cose, quindi non c'erano i servizi. Boh, e poi, quindi questo libro però, che era meglio non pubblicarlo per non suscitare antipatie, per non dare una prova che uno ha buffito vecchio, invece dice una cosa bellissima sull'amore che riguarda l'erotismo, che l'erotismo sta tra una sensualità irrelata e l'amore libero che è l'armonizzazione di questo nel rapporto con l'altra persona. L'amore è il culmine dell'erotismo e l'amore responsabile è la libertà, dice questo. Uno può dire, senti chi parla, lui non si sposò mai, fu come si dice a Palermo un grande femminaro, ecco sì, aveva però questa sorella che lo dominava, che visse con lui fino all'ultimo, dominato dalla sorella che però lo accudiva, poverina, bravissima, che era il suo angelo custode e forse non aveva spazio nella sua vita per portare una donna. Ebbe un amore lungo che però non coronato, lei ebbe poi molto astio per questo fatto, quindi Martinetti però sull'amore dice questo, l'amore come libertà e l'amore come sintesi. Che cos'è la libertà? Ecco che entra il mio grande asse tematico che è la libertà, il pensiero dell'uno. Pensare dell'uno, abbiamo detto, elevarsi in questo percorso e questa elezione è un cammino di libertà e qui ci occorre inserire la sua idea di libertà. Però prima devo dire quello che continuavo a dimenticare è che il motivo per cui vi ho proposto Martinetti oggi, vi ho proposto Martinetti oggi perché uno dei miei allievi, dei miei maestri, da me più amato, Emilio Agazzi, scrisse che insegnavo la filosofia della storia in cattolica, io sono austro marxista, ma io sono in statale, in statale, che insegnavo la filosofia della storia in statale, Emilio Agazzi, io sono austro marxista, ma perché ho imparato da lui lezione, io sono un austro marxista gransciano perché era lui che facendo le lezioni su Cranci, diceva che il pensiero di Cranci non è affatto incompatibile con quello di Rodolfo Morandi, l'austro marxista italiano, con questa prospettiva. Porto avanti, insieme agli altri due allievi di Agazzi, Marzio Zanantoni, direttore della casa editrice di Copri e Emilio di Gorelli, una prospettiva di questo tipo. Noi tre cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la tesi di laurea su Martinetti di Agazzi, dell'anno accademico 43-44, l'abbiamo chiesto l'autorizzazione alla figlia Elena Gazzi e ora esce in 500 pagine, 550 pagine da Unicopri in un mese prossimo. Emilio Gazzi mi diede tutti i datiloscritti che aveva trascritto di Martinetti, quindi quando andai a Torino andai a vedere solo quello che lui aveva trascritto che era pochissimo, quindi mi fece un grandissimo favore. E poi mi diede da leggere la sua tesi, io gli dissi professore la sua tesi è bellissima, devo dire è più bella di Alessio, si lavorano insieme con lo stesso professore Franco Paolo Alessio, tuo collega di filosofia medievale, statale, Emilio Agazzi. Ora, se voi leggerete Martinetti, Martinetti è una cosa cristallina, è di una chiarezza cristallina, lo era lezione, lo era quando scrive, il bravo Alessio scrive un libro complicato su Martinetti. Cioè, si legge facilmente, cioè, Alessio in prima battuta non si capiva niente, poi studiando si capiva qualcosa. E io dico, professore, il suo libro si capisce, perché non l'ha pubblicato? E lui mi guardò e fece così, mi ricordo, palesandomi tutta la sua debolezza umana, cioè la sua timidezza, la sua insicurezza, Emilio Agazzi pubblicò qualcosa, ma pubblicò pochissimo perché non si sentiva mai pronto. E allora ho detto, sentite questa tesi, pubblichiamola, ora esce, verrà presentata quel convegno, ed ecco che Martinetti torna in questa tesi di laurea, coraggiosissima, perché lui si laurea nell'anno accademico 43-44, non parla mai di nazifascismo, ma emerge in modo lineare e trasparente, una tesi coraggiosissima, contro la guerra, come criterio contro la guerra, contro l'immoralità della guerra, e riproponendo con analisi puntuale la filosofia di questo pensatore. E riproponendo nella chiave della libertà, il giovane Emilio Agazzi era vicino a giustizia e libertà, studente universitario. Perché libertà? Qual è l'idea martinettiana di libertà? È una sintesi tra Plotino e Leibniz e Kant, fondamentalmente. La libertà è l'energia, muoviamo dall'uno dunque, abbiamo capito questo, solo l'uno è, anzi è ultraessere. Fuori dall'uno non è niente. Cosa vuol dire per noi che siamo un io, centro di unità attuale non sostanziale? Vuol dire che il nostro essere è indistinto da Dio. Ma allora qualsiasi cosa facciamo siamo dei, no, niente affatto. Quando armonizziamo i separati, quando costruiamo la personalità, quando apriamo barchi di possibilità intorno a noi, quando siamo testimoni di pace, quando lottiamo per i diritti di migranti, siamo inseparati da Dio. E quando facciamo il contrario, quando diciamo che affondino le loro barche, perché loro non sono come noi, siamo separati, siamo molto lontani. Allora siamo il male. Il male non ha essere, ma opera, come potenza di barriera, di resistenza all'unificazione, come attivo e demoniaco, volendo anche fattore di che persegue la separazione. Questo è il male. Ma solo l'uno è. E noi, quando siamo nella verità, siamo indistinti. E ci distinguiamo quando ce ne allontaniamo. Se pensiamo ai soldi, pensiamo a qualcos'altro, quindi ci allontaniamo. Se pensiamo alla carità, usiamo le parole proprio di Martinetti, siamo, se pensiamo e siamo conseguenti nel cammino, agiamo. Ora, la libertà per un verso è l'energia dell'uno in noi, che suscita in noi il no all'ingiustizia, il no a tutto ciò che è male. E suscita a noi un sì. Questo, dice Hegel, è la verità perenne del platonismo. Scusate, dice Plotino, contro Hegel, è la verità perenne del platonismo. e cioè, la verità perenne del platonismo, che sono che le idee morali, le idee della ragione pratica che ci abitano, la giustizia, l'amore, la fratellata, se volete, libertà, calità, proeternità, sono a priori, non sono indotte dall'esperienza. Perché se non vanno dall'esperienza non ci può dire, ma guarda che è sempre finito male ogni tentativo di questo tipo. Non si è mai realizzata se non nelle chimere di gente come Platone. Però la risposta era già da Platone a Glaucone della Repubblica. Glaucone era l'amato nipote, uno dei migliori giovani più acuti, eh. Glaucone non è un giovinastro, era suo nipote diretto. E da lui amato e molto intelligente. Glaucone, quindi, gli dice, ma queste tue idee di Repubblica sono nella tua testa. Lui risponde, non è detto. Non è detto. Infatti lui poi si raccusa, quindi cerca... Platone cercava sempre di attuare la sua idea, no? Non è detto. Ma anche se così fosse, sarebbe ugualmente vero per essere nelle nostre teste. Non perché le teste di Platone e di altri hanno la verità, ma perché sono abitate da questi a priori, che giungono dal bene idea super essenziale, l'uno, il bene di Platone diventa l'uno in Plotino, no? Che giungono da questa dimensione trascendente a noi. Questa è la verità di tutto l'idealismo. L'idealismo nasce su questo. Dice ai realisti, questi a priori vivono in noi, ci abitano, sono tutto veri a priori, non sono tratti dall'esperienza, ma rendono intelligibile l'esperienza. senza questi l'esperienza umana non sarebbe intelligibile. Senza libertà, carità e fraternità noi non possiamo, non abbiamo gli assi dimensionali per intendere la realtà sociale. Grazie a questi a priori noi la intendiamo. Questo è il platonismo. Da Platone a Cioschi nella linguistica al nostro Martinetti. Quindi, la libertà, anzitutto l'energia dell'operare dell'uno negli io individuali e nelle formazioni soggettive, mi dispiace se non vedete, della soggettività. Uno. Due. La libertà è il campo, l'orizzonte di ogni nostro agire veritativo. Cosa c'è fuori dalla libertà? Fuori dalla libertà c'è lo sterminato campo dell'inlibertà, certamente, ma lì non c'è verità, lì non c'è essere. L'essere, la consistenza, la verità c'è solo nella libertà. Ciò che ha valore è solo nella libertà, quindi è un orizzonte che implica la libertà di coscienza e della coscienza morale. Ecco un'affermazione salda di laicità. Non dimenticavo di dire, politicamente, Martinetti impropriamente lo si apparenta a tocco la destra storica risaggimentale. In realtà lui è un mazziniano, non è affatto, non è a partire dalla destra storica risaggimentale, perché Martinetti, il pensiero politico di Martinetti è mazziniano, è proprio pienamente mazziniano. Egli connette l'azione sociale, l'azione politica, l'agire morale e il culmine religioso. È un unico filo che si modula. Una agire morale, un comportamento morale che prescinda dalla dimensione sociale, della carità, della filantropia, dell'eguagliato, io non uso la parola eguagliato, ma sicuramente contro le ingiustizie sociali, non è morale. Ma chi agisce contro le ingiustizie ha già in sé un principio di edificazione politica. E questo è morale. E questo è Dio. Noi diciamo tutti l'inno di Mameli, però diciamo solo la prima strofa. Mameli è l'ammazziniano, il giovanissimo. Continuando l'inno di Mameli dice amiamoci, uniamoci, oppure uniamoci, amiamoci, uniamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Questo è l'inno d'Italia che a me piace, devo dire, è mia emozione. Tutte le volte. Questo l'inno d'Italia per me è molto serio e fa parte, uno dei motivi per cui sono italiano e anche questo non sono contento di esserlo, è il pensiero di Mazzini ed è il pensiero di Martinetti. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Le vie contro la guerra, le vie per gli accordi sono le vie di Dio. Come facciamo a sapere? Sono quelle che nella libertà ci chiamano a libertà e a costruirla in questo percorso. Questa è la libertà. La libertà è queste due cose. E allora la libertà, dice Mazzini, ma la libertà è l'indifferenza? No! La libertà si indifferenzia per Martinetti e non è libertà. Egli la critica in questo libro. Perché? Perché la libertà di indifferenza è il punto di vista limitato però fallace dell'Io che crede di poter scegliere e se vuole anche scegliere casualmente. La libertà, invece dice Martinetti, non si oppone alla causalità. È un tipo particolare di causalità la libertà. Si oppone al caso. Perché? Perché il caso non esiste. Il caso è una rubrica provvisoria in cui mettiamo tutto ciò che non è spiegabile dalla scienza, diciamo caso. Ma è una rubrica provvisoria, come anche soprannaturale. Mettiamo nel soprannaturale quello che non è spiegabile. Ma Leibniz, questo è Leibniz, diceva se Dio agisce, agisce sempre da potenzia o ex potenzia ordinata. E quindi attivando legalità che noi non conosciamo e che però esistono. E quindi una persona può essere vista in due posti, fare questo, uscire le acque che si separano, tutto questo, non è capriccio, non è caso. Ha una sua legalità. Il caso non esiste. Vedere la libertà come libertà di indifferenza, no? è una interpretazione errata della libertà. Ecco l'idea di Martinetti. Quel pensiero dell'uno si ricollega a un'idea di libertà che non è antitetica al determinismo. Lo era già così in Leibniz. L'idea di libertà di Leibniz vede un coniugarsi di determinismo e spontaneità. Dov'è la spontaneità? Dentro l'io. In modo diverso ciascuno di noi c'è una molla verso la libertà. La molla che fece dire un coraggiosissimo no al fascismo da parte di Martinetti, per esempio. o anche, ancora prima, contro l'integralismo, l'intolleranza religiosa, contro tutto ciò che lede la libertà e la dignità del Dio. Ecco. Da una parte, questa è spontaneità. Quindi la libertà è un atto spontaneo che viene dall'uno. Ma non vuol dire casualità, capriccio, libertà di indifferenza. Perché? Perché noi agendoli veramente lasciamo operare una causalità che è in noi. Quale? La causa finale. La causa finale è quella che viene dall'uno e ci attrae a sé. Leibniz usava una bellissima formula che era, per riguardo alla libertà delle monadi spirituali, inclinare senza necessitare. Quest'azione dell'uno inclina senza necessitare. Martinetti non segue questo, ma segue invece un pensiero che è il determinismo. E libertà dei figli sono due lati della stessa realtà. Il mondo degli io spirituali è un regno di fini, così erarchicante, così per Martinetti, in cui la libertà che lo accorta. Quindi, seguendo la nostra inclinazione che ci fa attrarre verso l'uno, noi operiamo liberamente. Ma anche necessariamente, perché necessariamente, se noi ascoltiamo la voce dell'uno in noi, troviamo un'indicazione, una via, un compito. Questa è stata la forza di Martinetti. Volutamente, non vi ho detto alcuni episodi della biografia di Martinetti era per finire. E la forza di Leibniz nella sua vita, sì. perché nel momento in cui arriva il fascismo, nel 1924, 1925, 1926, ecco che Martinetti trova, all'unità statale, ecco che Martinetti trova la forza dei suoi notti. Anzitutto, 1926, egli presiede la Società Filosofica Italiana, la cui sezione Lombarda per anni è stata presieduta da Alessandro Ghiberberdi, allora regge la Società Filosofica, che allora, come oggi, ogni due anni fa un convegno, e allora, come oggi, chi la presiede è una rotazione, non è più importante il presidente nazionale. Martinetti era il presidente per una rotazione. E Martinetti, però, decide come argomento del 1926 la libertà e chiama Buonaiuti, sacerdote modernista scomunicato. Ecco che Padre Gemelli della Cattolica, che lo odiava, veramente aveva un odio per Martinetti, chiede che l'affronto alla coscienza cattolica della cittadinanza, Buonaiuti, chieda alla Polizia di intervenire e chiudere il convegno. La stessa richiesta fa Armando Carlini, giovane ultrafascista allievo di Gentile, poi in seguito democristiano ed esistenzialista, ma allora ultrafascista, no? E chiede anche lui che sia sciolto questo indegno convegno oltraggio alla città di Milano fascista. Viene la Polizia e lo scioglie il secondo giorno. O meglio, arriva la Polizia e Martinetti interrompe il convegno. Viene chiusa la Società Filosofica, nasce un nuovo organismo, c'è i Medi e i Gentili si mettono insieme e curano tutti coloro che non sono Gentiliani e Neotomisti e l'archivio di Filosofia pubblicherà gli atti e le convegne successive, no? Questa è la cosa. Martinetti tiene duro lì. Martinetti poi fa le lezioni su Gesù Cristo che saranno poi il libro Gesù Cristo e Cristianesio. E anche lì, di nuovo, quando esce il libro pubblicato a sue spese perché si è già ritirato nel 1034, viene messo all'indice. E il cardinale Schuster di Milano che chiede che venga messo all'indice, dice a Mussolini, Mussolini stava per venire a Milano, in viso e dice guarda che se tu non metti all'indice e non fai arrestare Martinetti per questo, io non faccio accettere le luci del Duomo contro di te. E allora lui lo fa arrestare per una notte e comunque ritira tutte le copie, io ne ho una di questa edizione pagata a caro prezzo, non per caso, la sono comprata, ho una copia che mi sono comprato già 30 anni fa pagando la caro, poi verrà ripubblicato e questo lui sarà semirovinato per pubblicarsi questo libro. E prima ancora, il suo grande coraggio è questo, siamo negli anni 20, ci sono le squadracce, gruppi universitari fascisti, picchiamo un professore della statale, scusate la mia memoria, però credo che molti di noi qui cominciano anche loro a prendere memoria, quindi spero che non vi sorpreviate, non mi ricordo più chi è. Pazienza, lo sapevo, non mi ricordo. Picchiano questo collega, Martinetti va dal rettore e dice e minacciano Martinetti, gli danno molte minacce. E allora lui dice o tu mi dai una scorta o mi difendo da solo, dice la scorta non te la do. E allora lui si prende il porto d'armi, si compra la pistola, la mette carica sulla scrivania, sul tavolo e lo dice questa è la pistola, guardate che se vi vedete io sparo per primo. Dato che hanno capito che lo faceva nessuno l'ha picchiato, e lui faceva lezione con la pistola sul tavolo e poi nel 31 non giù. Quindi ebbe un'energia di libertà che suscitò che Colorni sappiamo, ho detto Colorni ma rendiamo omaggio a questo grande che è stato anche filosofo, Colorni dopo Benzoteni scappa, dirige il CLN a Roma e muore in un scontro a fuoco con la Gestapo, perché era il capo a Roma nel 44. Dopo due giorni delle ferite, lui però sparò anche lui, ferì anche lui qualcuno da Gestapo. Eugenio Colorni trovò dal maestro un'energia di libertà altissima. Banfi comunque, anche lui trovò l'energia, non dimentichiamo mai a coloro che dicono che Banfi aderì al marxismo per opportunismo, dicono una cosa veramente vile, perché a Banfi morì il figlio, lo studio BBR, Banfi, Barazzutti, no, Banfi, Rogerschi era il terzo dello studio architettura, eh? Smerzutti. E Banfi era il figlio, il figlio di Banfi morì, e quindi uno non fa per opportunismo queste cose. Banfi, anche lui, trovò il suo coraggio, il suo impegno civile e il figlio trovò la morte. E quindi troviamo percorsi che sono stati suscitati da Piero Martinetti, il quale continua a essere, con tutta la sua inattualità e la sua attualità, un pensatore da apprezzare perlomeno per la sua prosa cristallina, per non scrivere senza enfasi, un filosofo che scrive per farsi capire, come poi fu, e che scrive fregandosi, rifischiandosi nelle mode, ma leggendo tutto, leggendo tutto, non facendo del rifiuto delle mode un alibi per una sua ignoranza, che non era. Una persona contissima, leggeva tutto, ma scriveva di quello che voleva. Fu un animalista, vegetariano, scrisse sugli animali, seguendo Leibniz anche, e gli riprendeva da Leibniz un'idea. Leibniz aveva l'idea. Potenza e atto sono inseparabili all'opera. Ecco, del pari Martinetti. Forma e materia sono due concetti limiti per Martinetti nel divenire, così come potenza e atto sono le due coordinate cartesiane per dare intelligibilità a ciò che c'è. Ma ciò che c'è è un misto di potenza e atto. Or bene, noi vediamo negli animali superiori rimorsi, felicità, tutte le sensazioni che abbiamo anche noi, ma vediamo che non conoscono la tabellina pedagogica. Allora, diceva Leibniz, vuol dire che la loro complessione fa sì che qualcosa che comunque deve essere in potenza diventi in atto. Perché? Perché come Martinetti ripete, nega esperienza umana, conoscenza e volontà, emozioni e pensieri sono inseparati e quindi lui lo assume. Sono inseparati, non sono la stessa cosa ma sono inseparati, sono connessi organicamente. E dunque anche gli animali devono poter avere delle potenzialità teoriche, diceva Leibniz. Secondo Leibniz, che riteneva che ci fosse il paradiso, questo vuol dire che anche gli animali vanno in cielo e continuano il loro cammino. Secondo Leibniz, gli animali hanno uno statuto simile al nostro. Lui infatti era vegetariano. Io no, anche sì, però apprezzo. Io apprezzo molto questo. Io non lo so per apprezzività, perché ho paura che mi faccia male, ma se no lo sarei anche io. E quindi un altro lato di Martinetti e l'ultimo lato, per finire, il suo interesse è per la filosofia indiana. Martinetti è il pensatore che più di tutti in questi anni studia da filosofo e di filosofo e della filosofia indiana. Si laurea sul sistema Sankhia, che è un sistema filosofico indiano simile alle sue idee. che prende 101-110, credo 101-130, va al 101 perché è punito. Perché il suo relatore Ercoli no, ma gli altri dicono no, non devono dire altri su queste cose. Però a Torino, che c'è una tradizione di esoterismo, c'è anche una tradizione di attenzione all'India, all'Oriente. Quindi a Torino c'era questa attenzione per il pensiero indiano, c'era il professore, però poi in commissione furono puniti, professore allievo. Martinetti rilancia e nel 94 anni dopo, Lattes, l'attuale Utet, allora si chiamava Lattes, cioè si chiamò Utet nella stessa casa editrice, oggi Utet e allora Lattes, che era il cognome di trae volte dei proprietari, Lattes gli pubblicò Lattesi come il suo primo libro. E quindi, se io quando quelle poche volte che ho visto giovani che sono stati penalizzati alla volta di laurea, non da me, qualcuno da qualcun'altro non ha avuto l'audito, guarda, senti, tu hai una possibilità, fai come Martinetti, porta avanti la tesi, che bella, pubblica e nessuno dirà quanto vuoi hai preso, guarderanno il libro e si diranno quanto vuoi il libro, chi se ne frega quanto hai preso nella tesi. Mette a tacere tutti pubblicando un bel libro, cosa che fece Martinetti. Martinetti poi dedicò corsi alla filosofia indiana, che sono stati ripubblicati, e altri sono stati raccorti da Emilio Agazzi nella grande opera meritoria che fece da adulto, la pubblicazione della seconda parte della sua Metafisica, la prima uscita del 1904, l'introduzione alla Metafisica, la seconda postuma, in parte compiuta e in parte incompiuta, grandissimo lavoro di Emilio Agazzi, Metafisica generale, la pubblicò Olivetti, perché Olivetti voleva in eredizione di comunità, no? Olivetti era molto vicino, scusate che mia omissione quando dico l'influenza di Martinetti è anche su Adriano Olivetti, che quindi è figlio di un sociniano e di una valdese, quindi tradizioni di eresia piemontese, e i sociniani esistono ancora in provincia di Alessandria, c'è un circolo di sociniani, cose che continuano. Figlio di un sociniano, Camillo Olivetti, fondatore di Olivetti, e di una valdese, non mi ricordo o no, lui era invece vicino a Martinetti come sensibilità, e quindi pubblicò questi due volumi, una parte del secondo volume sono i suoi inediti sulla filosofia indiana, e altre cose le ha pubblicate quell'editore di Bia Santa Valeria, come si chiama, Riberkus, Celuk, Celuk ha pubblicato il libro sull'amore e la filosofia indiana, questi due inediti, le ha pubblicate da Celuk, fine della mia ombre. Bene, professor Mancini, non aveva proprio bisogno del suo viaggio da Palermo a Milano per approfondire la conoscenza di Martinetti, mi sembra, no? Anche ieri, ecco. Ecco, allora apriamo la discussione, anche stamattina, ha studiato. Ecco, cos'è che ha studiato stamattina in particolare? No, ho visto le mie schiagature e qualche frase che non ho fatto tempo a leggere. No, il concetto della libertà è fondamentale, quindi se c'è la legge ci fa… No, ma prima vediamo anche se c'è la domanda. Va bene, lasciamo la parola alla discussione, qualcuno vuole avvirla. Tra i libri su Martinetti ce n'è uno di un suo collega avvocato, l'avvocato Guido Bersellini Rivoli, che con l'introduzione di Gustavo… Guido Bersellini Rivoli, un avvocato che ha scritto un bel libro su Martinetti, naif per un verso, perché lui è un avvocato, cioè naif nel senso non da addetto a lavori da presentare a un concorso, ma non c'è… ma a versativo è sbagliato, naif è molto fine, scritto bene, con una bella introduzione di Gustavo Bontadini, dove Bontadini rinovella la sua critica a questo intuizionismo infondato di Martinetti, e quindi pubblicato da Assaggiatore nel 72, per il Cento dell'Anneria di Assaggiatore, che però è un bel libro, che testimonia… e Guido Bersellini Rivoli era uno di quelli ancora dell'ultima scia di Martinetti, che andava alle otto lezioni da lui. C'erano numerosi gli avvocati. Non posso fare una considerazione al fatto che il quadro che lei ci ha raccontato narrava di un periodo estremamente nefasto sia per il fascismo, per la guerra, eccetera, uno si chiede come mai, cioè, in queste situazioni così disastrose, che la gente possa continuare a pensare, a produrre, eccetera, eccetera. Cioè, rispetto alla situazione attuale, tutto sommato, molto più, malgrado che tutti si lamentino, in realtà, molto più rapace. L'altra cosa, in realtà, e fa ricapire, questi concetti, se ho ben capito, riflettono molto di quello che sta emergendo le vituperate neuroscienze, cioè nel senso che l'umano è un insieme di razionalità, sentimento, e poi anche la gente ha discorso della libertà, che dagli esperimenti di Libet, eccetera, risulta che non sia dovuto a determinare, abbia fondamento nel caso, nel caos, ma abbia fondamento nell'interazione di diversi meccanismi neuronali, istintivi, razioni, eccetera. Quindi, la libertà che viene in questo momento studiata a livello di neuroscienze non deriva da un meccanismo casuale, anche se ci sono meccanismi casuali, ma dall'interazione di diverse determinazioni, di diverso livello, istintuale piuttosto che razionale, eccetera. Quindi, in realtà alcuni concetti penso che possono essere autorizzati. Allora, quando le scienze, la rivista Le Scienze, che fa i supplementi trimestrali, che sono delle proprie monografie, lo fece sulle neuroscienze a metà degli anni 90, in realtà, ci fu un articolo, mi sembra più di un articolo, che trovarono, che dissero, che ci sono due chiavi per intendere queste nuove scoperte, quella riduzionista e quella reminiziana, dell'armonia prestabilita. La scoperta di corrispondenza tra connessioni neurali ed emozioni non dice che l'uno determina l'altra, dice che sono in connessione. Il dire la reduzione ad unum è sempre un plus, irrazionale, nel senso comunque extra-razionale, che nasce da altre motivazioni. Da quale motivazione ha? Dai soldi, da chiedere più fondi per la ricerca, dal potere, dall'affermare uno status, un paradigma di discussione per cui tutti si deve entrare in quel paradigma, tutti si deve far finta di credere che da base a un filosofo, tutti questi, non parliamo nomi, si inventano delle convenzioni, no? e la riduzione ad unum è un'imposizione di potere, pure semplice, di per sé. La verità, la conoscenza, c'è quando si scopre, scopre, corrispondesse. L'ipotesi, la reminiziana dell'armonia prestabilita, e l'Aviz dice ipotesi, la chiamo sempre ipotesi dell'armonia prestabilita, è quella che afferma questa corrispondenza senza dire l'una determina l'altra, ma mostrando un nesso preversibile e bidirezionale. Guardalo, vuoi studiare come queste attività neurone modifiche le emozioni? Fallo! Vuoi studiare come le emozioni modifiche le attività neurone? Fallo pure! Perché vuoi affermare che una determina l'altra? Sei già fuori dalla verità, sei già a qualcos'altro. Martinetti è nella stessa linea, e essendo un attidualista, ontologico, corpo e spirito non sono sostanze separate, non sono sfere separate. Corpo e spirito sono dimensioni intelligibili di ciò che avviene, che insieme, corporeo e spirituale, ma è separabile. Ma la verità va nella direzione dello spirito. Perché? Perché la direzione dello spirito è quella dell'armonia dei compostibili, della sintesi, e non è quella della separazione. Il cammino della verità è spiritualizzare il corporeo. Freud ha scoperto il grande continente dell'inconscio. Martinetti è abbastanza interessato a questo. Lui dice che lui lo chiama subconscio, del resto anche Sartre lo chiamerà subconscio, anche lui non vorrà la direzione dell'inconscio. Ma al di là di questo fatto, non è sconcertato da questo, perché questo è un allargamento della conoscenza di quella sfera che prima si chiamava semplicemente l'involontario e ora diventa io, essere io, super io, diventa così, diventa complessa. Ma qual è il senso di tutto ciò? Il senso di tutto ciò, oltre a far dire una terapia da patologie, il senso di tutto ciò è l'armonizzazione. Il senso di tutto ciò è questo cammino di libertà, di diventare responsabili. L'altra domanda era, ma in situazioni così difficili? No, certamente non mollare la rivista, no? Non mollare, non mollare il punto escavativo. Quindi durante questi anni ci furono grande energia, e non solo in Italia, pensiamo... Durante i bombardamenti aerei, al mattino, gli appelli degli esami c'erano. E cosa facevano? Che noi, la generazione prima, a generare a contatto cosa facevano? Studiavano nel rifugio. E al mattino andavano a fare gli esami, avendo passato la notte in bianco, professore nel suo rifugio e studente nel suo rifugio. si andava a fare gli esami. Gli appelli si facevano. Gli appelli si sono sempre fatti. E c'è una foto molto bella di Gnassvers, celeberrima, la sua prima lezione, che è sulle colpe della Germania, lui in piedi su un cumulo di macerie, in questa aula di cui ci sono solo in parte i muri esterni, così, no? E le macerie... E lui nel punto più alto delle macerie, utilizzato come pedana, agli studenti sotto la pioggia, perché non ce l'ha detto pioveva, faceva freddo, vedete, e Jasper sotto la pioggia, in piedi su queste macerie, in ancora l'anno accademico. Quindi questo è... L'energia c'è, viene, è tanta. Quindi sulle neuroscienze sicuramente Martinetti non sarebbe andato in crisi, perché non è un dualista ortologico, e sicuramente avrebbe rifiutato i riduzionismi e il materialismo vulgari. L'idea di Martinetti del materialismo è questo. La materia è un'idea, di per sé, come un'altra idea, però un'idea più povera di altre idee, di per sé, perché appunto, ciò che vediamo come materia, possiamo vederlo come forza, energia, ma possiamo vederlo anche come spirito. Materia, energia, spirito, sono tre assi intelligibili di un'unica realtà. Per cui tutto è spirito. Ecco, lui, anche vegetariano, anzi, cioè questo ormonismo, è tutto anche materia sicuramente, ma la ricerca della verità va dalla materia allo spirito, non in chiave dualista, ma in chiave nella chiave che vi ho detto. Posso solo confermare, perché ho avuto la fortuna, questa settimana, di andare a visitare il CERN, dove lavorano due miei nipoti, e in effetti confermo che la materia è un'idea. è un'idea che però nel momento in cui si presenta come non idea, ma come la realtà, diventa falsa. La materia, l'interpretazione... spero che non va al casino come l'altra volta, che certe idee non voleva altro bene. Volevo chiedere questo. Il concetto di libertà in Martinetti non lo conosco. Conosco solo, diciamo, a livello informativo un profilo del Matiè e qualche altro profilo. Non lo conosco. Comunque, questo concetto di libertà in Martinetti, che il rapporto ha con il concetto di emanazione in politica, è una stessa cosa o no? Poi lui, mi pare, di aver capito dal profilo che ho letto, libertà e necessità, il rapporto. E poi libertà e contingenza. Necessità sarebbe Spinoza. Convincenza sarebbe, diciamo, una posizione del pensiero, possibilità e non possibilità di fare. Io lo dico, vabbè, alla volta scendo nel personale. Avevo un insegnante di teoretica che non so, era... ne ho avuto due insegnanti di teoretica. Uno era... Il titolo fondamentale era libertà e, senza accento, metafisica. Una ricchezza di, diciamo... è Cristaldi. Franco Cristaldi. Non so dove... Perché è un libro edito di Giuffre. Ecco. Libertà, una ricchezza di... Tante volte uno viene preso per fanatico delle citazioni, riferimenti culturali, eh. Patrono doveva essere qui che Giuffre. Patrono era quello di Bologna. E... Una ricchezza del riferimento culturale che è una cosa splendida. Un altro ricordo appassionale. A Padova, proprio quando a Padova c'era una occasione perché accanto c'era la proposta di sociologia ma non ha niente a che fare a proposito degli insegnanti. Arrivavamo lì da tutte le parti per dare l'esame di sociologia. C'era... No. A un certo punto. C'era un tale casino. Tutti gli insegnanti erano tutti scombarsi. E noi eravamo lì da l'esame. E perché? Perché c'era casino, c'era... Ma che c'entra Martinetti? Va bene. Non c'entra Martinetti. Ma a proposito del fatto di... 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 Di insegnanti che... L'unico. E' rimasto uno che era disponibile a fare l'esame. Questo? Va bene. Non sappiamo... Martinetti poteva anche essere con gli studenti, non è detto. E quindi questo... Non sappiamo cosa avrebbe fatto. Non darei per scontato che... Che sarebbe stato fare l'esame. Non lo darei scontato per niente. Ma comunque... Detto questo... Eh... Le domande sono... Emanazione. Anzitutto... C'ha a riferirla come chiave interpretativa di Plotino non è scontato. Bayer-Waltes, per esempio, è uno di quelli che dice che il concetto di emanazione è sbiante come chiave risolutiva di Plotino. Perché? Perché nelle tre ripostasi di Plotino uno, nus e psiche anima tra l'uno e il nus c'è comunque uno scarto. E uno scarto forte c'è poi tra il nus e l'anima. Quindi non c'è una pura lineare continuità. Dunque... E Martinetti? Martinetti parlando di sé si propone come rifiuta il teismo filosofico legato al concetto di naturalità di sostanze. Rifiuta il panteismo, assolutamente, perché vi è la trascendenza, e ripropone la sua prospettiva come un panenteismo. però non è un concetto di emanazione che neanche lui usi, è un concetto ambiguo questo di emanazione. E quindi è una chiave interpretativa da prendere a mio parere con le pinze. dove è la trascendenza in Martinetti? La trascendenza in Martinetti, che questi a priori che ci abitano della libertà, vengono dall'alto e dall'oltre. E nell'alto e nell'oltre si raccoglie tutto ciò che è in quel cammino. Ecco un'altra cosa che non vi ho detto, non vi ho detto i quattro punti delle cose, chiaramente. Questo Uno, questa realtà assoluta, egli la qualifica spesso con questa definizione Omnitudo realitatis. Omnitudo realitatis, pienezza della realtà. L'Uno, dunque, come potenza di raccoglimento di tutto ciò che ha avuto consistenza, che ha avuto verità. Come avviene? Lui dice, non sappiamo. Noi non sappiamo come avviene questo raccoglimento, ma diventa il tema poi dell'immortalità in Martinetti, ma sappiamo che ciò che amiamo nei nostri carichi non ci sono più, è raccordo. Lui dice, vede come una domanda volgare meschina quella cosa ne sarà di me dopo la morte. mentre vede come una domanda profonda e giusta da abitare che è nei miei cari morti. No? Dice, non ti preoccupare cosa sai di te, chiediti di i tuoi cari. I tuoi cari, quello che tu hai amato, quello è raccolto. Cosa vuol dire che è raccolto? Lui non esclude per niente la possibilità di essere in rapporto con i defunti, senza spiritualismo, senza nulla, che ci sia qualche legame. E lo dice riguardo a una persona di cui lui aveva una elevatissima stima, l'eroe del Risorgimento, Benedetto Cairoli. Benedetto Cairoli fu l'unico dei fratelli Cairoli a non morire, e fu ferito in battaglia anche gravemente, ma non morì. Gli altri morirono tutti. La mamma che gli aveva mandati morì anche lei nella sua età. Quando lui era ministro, Benedetto Cairoli, prima delle decisioni importanti, di notte stava tutta la notte con i suoi cari morti e diceva che non voleva mai decidere da solo, decidevano tutti insieme ed era molto serio, dato che Benedetto Cairoli non era uno che scherzava. Era una grande solennità, ma i Martinetti dà molta importanza a questa testimonianza che Cairoli decideva dopo aver consultato i suoi fratelli morti. Lei è scettica, ma Benedetto Cairoli non è un cretino, è stato un ministro. E da quando uno è in gamba, è in tegerimo, bisogna ascoltarlo, non era un cretino, era qualcosa, quindi bisogna dare serietà alle testimonianze, che non è detto che lui ascoltasse veramente quelli, ma certamente in quelle notte insonni qualcosa avveniva e solo dopo queste notte insonni lui prendeva le sue importanti decisioni divinissero su quello che doveva decidere quando era sospeso. Omnitudo realitatis, pienezza raccogliente e trascendimento. Emanazione, io lascerei perdere perché un concetto molto ambiguo, che neanche ha ragione Bayer Vardes, fa capire Plotino. Rendere Plotino un parteista è sbagliato, Plotino non era un parteista, non accettava la creazione, ma non era neanche un parteista. L'altra domanda era sulla libertà. La libertà per Martinetti è un nesso causale. Tutti i nessi causali sono nessi tra un antecedente e un conseguente. Dove c'è causalità c'è una condizione antecedente e poi quella che viene dopo. La libertà è uno di questi nessi. esclude la casualità. Lui la chiamano anche contingenza. Noi che conosciamo per l'opontismo, per l'esistenzialismo abbiamo della contingenza un'altra concezione. Io non ho la concezione... Ma comunque la casualità la esclude e quindi la libertà si oppone alla casualità, alla libertà si indifferenziae e non si oppone alla causalità. La libertà è la causalità dello spirito per Martinetti. E dunque aderire a ciò che si deve fare attraverso una scelta e intenderlo come libertà e come necessità sono due lati della stessa cosa. dal punto di vista di quell'uno raccogliente tutto, egli vede tutto e vede questo. Dal punto di vista empirico dell'Io è certo che deve scegliere. Ma egli deve scegliere perché non vede tutte le connessioni. Ma se la sua scelta è libera è la scelta spirituale, è la scelta che porta a elevare quella roba. Abbiamo vent'anni, siamo fidanzati, vediamo una ragazza che ci strizza occhio alla fermata del metodo e scegliamo, andiamo dietro, sbagliato. Perché tu guarda quei bambini che non nascono più perché quella se ne accorge, dal bambino a fianco esce la fidanzata e ti manda a farsi friccere, no? Fine. Ecco che quei bambini non nasceranno, ecco che quelle possibilità non ci sono. E quindi tu che cosa farai? quello che farai è dal punto di vista di una mente che vede tutto vede quello che farai, dal punto di vista tuo e scegli. Scegli il possibile oppure no. Ma scegliere il possibile non è dire io faccio quello che voglio, non io faccio quello che voglio. Pensa e agisci. E quando agisci fai la cosa che temi fare, quella e non un'altra. Scusa, me l'ho prenotato io. No, volevo dire questo. Questi tipi di concetti, questi tipi di problemi, sono la base del diritto. Nel senso che un comportamento umano per il diritto non può essere considerato responsabile e quindi attribuibile a un determinato soggetto è valutabile sotto il profilo di un'eventuale sanzione se non è almeno composto da due elementi. L'elemento materiale del suo comportamento, cioè l'accalimento esterno che viene rilevato e normalmente d'altresì provato e poi c'è l'elemento soggettivo. Oltre a quello soggettivo, quello soggettivo. Un comportamento umano non può mai essere sanzionato se non è liberamente voluto. E cosa significa questo liberamente voluto? Se non è deciso. Le neuroscienze sembrerebbero dire che tutti i comportamenti umani sono necessitati dalla struttura della tua psiche, la struttura del tuo modo di pensare e via dicendo. Quindi c'è un grossissimo dibattito in diritto oggi sul fatto se è vero, perché questo eliminerebbe completamente la possibilità di sanzionare un comportamento. Se tutti i comportamenti sono necessitati, nel senso che c'è una ragione del loro essere, allora come faccio a considerare responsabile di quel comportamento il suo autore? non posso, e non posso quindi punirlo, sanzionare quel comportamento. La sanzione è qualcosa di più largo rispetto alla punizione. Ci possono essere delle sanzioni anche esclusivamente civilistiche, cioè nei rapporti interpersonali, che non semplicemente alla punizione che viene in vista, non so come, una somma di denaro da pagare e la privazione della libertà e robe di questo genere. Allora il discorso sulla libertà è fondamentale. Ecco, chiederei al professore una valutazione di questo genere molto affrettata, perché è chiaro che il discorso è molto ampio. se si applicasse nel diritto il concetto di libertà di Martinetti cosa succederebbe? Avrebbe delle implicazioni particolari o no? Nel senso che mi sembra che Martinetti ipotizzi un certo normotipo di individuo, no? Quindi, nel momento in cui io dico che devo rendermi conto delle conseguenze del mio comportamento e fare una scelta cosciente, affermo dei principi che sono tipici del diritto vecchio, diciamo così, e non delle ultime tendenze del diritto, no? perché si ipotizza che tutti gli uomini siano assolutamente coscienti nel momento in cui agiscono, vedano le alternative possibili e siano in grado di fare una scelta fra queste alternative e la facciano sempre secondo principi che conformano la vita sociale quantomeno se non conformano addirittura l'unità dell'essere filosofico. Cioè, mi sembra che si tenda ad affermare l'esistenza di questo normotipo che è in grado di agire in piena libertà facendo delle scelte giuste. Ecco, mi permetto di chiedere questo. Martinetti, per quanto riguarda il diritto, ha pienamente una concezione liberale. lui è un risorgimentale ancora, lui si identifica pienamente nel percorso da Mazziniano qual'era, dello stato unitario, della libera chiesa e libero stato e quindi questo diritto per lui è l'ordinamento liberale del diritto, non c'è alcun dubbio. certamente libertà implica un individuo che decide, ma questa sua decisione se a lui può sembrare una decisione indifferente, non è mai la vera decisione, non è mai un arbitrio. libero, cito a pagina 321 della lezione Bollati Boreghieri, no, allora non era Bollati, Paolo Boreghieri perché era del 64. libero è ogni essere la cui vita si svolge conformamente alla sua natura. si svolge conformamente alla sua natura. questo è libero e quando uno è se stesso, è un'idea di Leibniz, ma era un'idea già di Cusano, dedicando la dotta ignoranza alle congetture, non mi ricordo più, a Giuliano Cesarini, che è il cardinale romano che in realtà era un po' peggiore di lui, ma era il suo protettore, poi diventa cardinale a Cusano, non ancora, e lui dice che la verità in te che sei italiano italianeggia, in te che sei naziale nazianeggia, in te che sei romano romaneggia, in te che sei giuliano inventa giulianizza, giulianizza, la verità in te giulianizza perché c'è una singolarità e tu sei libero quando ti comporti da Giuliano. Io una volta, chi lo sa, forse salvai uno, uno studente che aveva preso molto antagonista, troppo, lo temevo un po' che per questo studente tanti anni fa, no? Io non mi ricordo neanche il nome, e lui diceva qualcosa, ma questo non è da te, gli disse, bleffai un po', io come facevo a sapere, era un bravo ragazzo, gli disse, bleffai un po', non è da te, non sei tu questo. Io mi guardò così, mi lasse lo colpì con questo fatto, non sei tu. Lo gli si distinto, un po' bleffando, un po' credendoci, però vedi che il bleffetto fu efficace, si mi fece più cauto, più prudente, forse non era da lui, forse la via dell'antagonismo politico più pericoloso non era da lui, si fermò a mio parere. E dunque, libero, ripetiamo, è ogni essere la cui vita si svolge conformamente alla sua natura, e la libertà di questi esseri crea, cito ancora, quello che è un sistema infinito di vite spirituali, ciascuna analoga all'altra analoga, non identica. Questo è il regno della libertà. In questo regno della libertà c'è la decisione, ma la decisione sta solo dal punto di vista empirico della moltiplicità, mai dal punto di vista assoluto dell'uno trascendente, che compone quell'armonia. Dal punto di vista empirico noi decidiamo e decidendo siamo persone e anche persone giuridiche, con gli onori e gli oneri della nostra libertà e responsabilità. In questo, come tale, la patologia, beh, la patologia è fuori da questo, il comportamento patologico, naturalmente, se uno non in grande intende le volere, questo non si applica, questo si applica chiaramente alla normalità. Nel pensiero di Martinetti l'uno tenderebbe al bene. L'uno è il bene. Sì, e il bene tenderebbe al bene negli esseri. E oggi, come oggi, si pensa di Dio, l'uno, che abbia aspetti ambivalenti, di bene e di male. Tant'è vero che c'è stato un dibattito, io non so dove, ne ho avuto notizia attraverso la lettura di un libro, dove, non so, De Benedetti, che è studioso dell'ebraismo, eccetera, giunge a dire che probabilmente Dio vuole essere pregato per mostrare il suo aspetto benevolo e non l'altro. Poi, a proposito della risposta che ha dato all'Avvocato Tamburini, che l'uomo libero è quello che agisce secondo la propria natura, questo presuppone una formazione non da poco, che dura anche tutta una vita e un po' il conosci te stesso. E' in questa scia. Sì, ma che dire di quelli che conoscono se stessi molto parzialmente perché non hanno avuto la possibilità... e... è dato il discorso... e sono la maggioranza... Allora, grazie per le tue domande. L'Uno ha anche una dimensione negativa. E' vero. C'è... Prendiamo Vattimo, no? Il pensiero dell'Uno, scrive Vattimo, è violento. Sostiene Vattimo. Il pensiero dell'Uno è violento, intrinsecamente. Questo lo dice Vattimo, che io stimo molto, ma non sono d'accordo. Non è... Secondo me... Oppure... Espositor, Roberto Espositor, il concetto di persona è violento perché esclusivo. Secondo me, non c'è un concetto indenne da una sua utilizzazione contraria, manipolante, violenta, a partire da quello di Dio stesso, no? C'è chi sostiene che i monoteismi sono violenti, perché sono intolleranti. Ah, ecco, questo assolutamente... Non c'è un concetto. La smentita di questo è data a qualsiasi pensatore dell'Uno, che sia il contrario, il pensatore coerente, abbiamo detto Plotino, prendiamo Giordano Bruno, il pensatore fortissimo dell'Uno in questo... Qualsiasi pensatore dell'Uno che non sia stato questo, smentisce la necessità che dal pensatore dell'Uno di scegliere un dispositivo esclusivo e violetto e separato. L'Uno può essere questo. E tiene la poesia, no? Quando aveva 16 anni, peraltro, 17 non ancora compiuti, scrisse un livello, il Contre 1, che dagli Ugonotti fu preso a emblema del rifiuto del Papa. Io sono valdese, quindi a me va benissimo questa cosa. Però, aveva 16 anni, era un emblema, un pamphlet, l'ultima cosa che voleva dire, e tiene la poesia, che era uno stoico, era rifiutare l'idea dell'immunità nel corso delle cose. Stoico 16 anni, era stoico anche, muore in verso i trenta. E quindi, l'Uno in quanto tale non è un concetto che si possa considerare negativamente. Funziona negativamente quando si piega a usi utili che contestano una concezione liberale che implica l'autonomia della scienza. Si piegano quando si uniscono a visioni totalitarie. Per mantimenti Dio è orizzonte indivisibile. Quindi l'Uno è ciò che... L'Uno, potremmo dire, funziona. Mi viene in mente in questo momento, è utile discutere. Mi viene in mente in questo momento. L'Uno funziona in quel modo quando funziona solo da minimo comune denominatore. funziona in modo non violento quando, oltre che minimo comune denominatore, perché l'umanità vuol dire qualcosa che abbiamo in comune, essere su questa terra vuol dire qualcosa che abbiamo in comune con tutta la biosfera, eccetera, eccetera, oltre che minimo comune denominatore, fugge anche da massimo comune denominatore. E allora rispetta la singolarità. E' sempre l'Uno, quindi questo... coloro che affermano questo lo affermano in modo, per me, non fondato o un po' superficiale. L'altra domanda era sulla libertà, qual era? La seconda non me la ricordo in questo momento. Ne abbiamo fatti due. L'essere libero. Sì. Ah, sì. L'essere libero, questo, Martini riprende l'asserto fondamentale di Plotino, che dice la libertà è solo la liberazione. Non c'è libertà poi la liberazione. La libertà è il processo della liberazione. Non c'è libertà senza liberazione. Se uno diventa un'idolatria, qualcosa di vuoto, la liberazione, la libertà c'è nei processi della liberazione, che sono i processi dal separato al armonizzato, dalla discordia alla concordia, da un'armonia a una più profonda, più bella, più complessa armonia. Dal disarmonico all'armonico. Questo è il cammino verso l'Uno. che è il cammino della giustizia, perché la giustizia come equità e equilibrio tra parti. Porfirio ricorda che morendo Plotino lasciò di sé queste ultime parole e mi sono sforzato nella mia vita di accordarmi al nus nella giustizia, cioè nell'equilibrio tra le parti. e Plotino lo fece nella sua vita perché Plotino, a Roma, aveva fatto questo orfanotofio dove i figli della nobiltà, rimasti orfani, i parenti li portavano, affidandoli per la formazione a lui e la sua scuola, figli e figlie, e dando le sostanze. E Plotino, quando diventavano maggiorenni, imitava le sostanze con le... non so se allora c'era l'intercrucole. Avevano i loro soldi e più gratis tutta la formazione. Era il suo modo di essere equo, coerente. Eramite, una sola volta si arrabbiò, dice Porfirio, che fremente, andarono a sentire un ognostico che teorizzava la pedofilia, cioè il rapporto erotico con gli allievi. Lui stava per scattare in piedi, Porfirio e l'allievo lo tratteli, e gli dissero, la prossima settimana vieni qua e fanno tutta una critica. Tornarono a Porfirio e distrusse questa tesi completamente. L'equità di Plotino, appunto. La libertà è un processo di liberazione e conformazione al nostro essere equi. Ed essere equi non è l'imposizione di un modello, ma tendere dal disarmonico a armonico in un percorso consapevole e quindi libero. La libertà è questa consapevole. Volevo fare delle piccole considerazioni a proposito di quello che dicevo sul diritto. Allora, se la libertà non è qualcosa di definibile, ma è un percorso, nel momento in cui io valuto il comportamento di un soggetto, devo fare riferimento altresì al suo percorso di libertà. Quindi non posso decidere se lui è colpevole o meno, secondo principi generali e libertari.